Tra due ali di folla di turisti e spettatori, un migliaio di spazzacamini provenienti da tutto il mondo hanno sfilato domenica mattina in abiti e attrezzi da lavoro, insieme a gruppi in costume e bande musicali per il 41esimo raduno. Lunedì le delegazioni faranno tappa a Domodossola, dalle 18 sfileranno per le vie cittadine. Festa del Boden, in piazza Bianchetti a Ornavasso, tutte le sere cucina e cocktail bar, da giovedì a lunedì 9 settembre.